Salve io sono Gaintime e oggi siamo tornati nella vanilla con Turrix Chaz farà da sfondo ma tanto non ci sarà perchè... Oh! Costruiremo come avete visto dal titolo il nostro bellissimo Luna Park O inizieremo, cioè lo... Vi vorrei mettere in sovraimpressione le immagini da cui abbiamo preso di ispirazione Tra l'altro la nostra fortuna è che noi, o almeno io, ho preso le, come si dice, le rotaie, un po' Da, dalla manzione del video scorso, no queste però non vanno bene mi sa Per trovare l'altezza lo faccio eh, è di 1, 2, 1, 2, 3 Ah 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 3 misa Piazza le torci intorno così non spawnano i mostri eh Almeno se spawnano non arriva. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 No, non torna E' bagata l'immagine No, io ho fatto perfetto però era bagata l'immagine 2 3 2 2 2 2 2 3 Fatto oddio è vero chi è che sta picchiando i villager ok 1 2 3 Aia Qua se no non riesco a farla. Poi c'ho da fare 1 No, 1 2 c'ho da fare Cosa che tra l'altro io queste le facevo già quando ero piccolo sulla play Quindi dovrei già saperle fare a mano però Sapete c'è uno perde l'allenamento eh Ah già Lion comunque il parchino non l'aveva fatto Non credo no Buono cavolo Una cosa che non ha fatto Lion l'ho fatta E qua cosa ci dovevo mettere? 5 un'altra volta Però adesso mi servono perché se non ce la può Ok Allora questo di quanto doveva salire Ragazzi siamo tornati qui Scusate ma è Ehm La webcam mi è crashata quindi in questo video non la vedrete per niente perché farvi vedere la webcam per un pezzo non avrebbe senso Ma è solo Dora parte da qua E parte dall'alto però No no anche dal basso c'è E fa 1 2 3 No non ha senso Penso che siamo a buon punto e che come vedete abbiamo fatto tanto Già anche il portale dei NETER non ci siamo ancora entrati soltanto per voi Ci stiamo calcolando tutto tramite la foto Quindi contate che le difficoltà ci sono Fammi vedere Uno, due, uno, due Quindi Allora C'è tipo una casa degli orrori qua Anche È una figata, è questo qua di vetro Questo pezzo che sto facendo io ora Ah, è un errore Sì E c'entra dentro la ruota panoramica Ma qua c'è tipo uno zombie che noi non metteremo Ovviamente perché No, qua si sospende le torci di redstone Che figata Sì, è tutta apposta Perlomeno Questi però non ci dovrebbero stare qua Io sto per finire i blocchi qua, eh Se te ne hai un altro po' poi se ce la fai Mi dovresti dare di questi perché li sto finendo Ok Poi ora ho dentro non so come ho fatto ragazzi Quindi non è che posso fare tutto uguale Comunque se è così Ecco Sono venuto qua per vedere il suo parco Quello abbiamo costruito insieme Sono pure crashato, quindi Ah, ok Vedo poi crash Vedo che lei si è già messa a peora Quindi, eh Stradina di sabbia Bella, molto bella Bene, è stato un po' sopra Mi toccava un bellissimo Sì, ma non vomita Aia No, non vomita Ti ammazza direttamente Ma che c'è, scusa? Aia C'è davvero lo scheletro alla fine Ma che è lo scheletro? Perché a te non ti attacca? Bene, come lo vedo? Come no? Quello cos'è? Nella ragnatela Ma no, è quello Era uno scheletro Oh Ragazzi, scusate Oggi che mi dai Ah, eccolo Volevi farmi credere che Fossi Illusionato L'ho ammazzato C'ho le prove video Vai, posso salire? Tenga Grazie per i soldi 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 Di qui si va un po' renti Eh, me ne so accorto Minchia, chiedo un rimborso ora se non parte Tranquillo parte Mangio le patate Ragazzi, mi posso volare perché oltre non ce lo devi Dato dal parma Ma dai il fio? Come lo faccio il ritorno? Non so se funziona il ritorno Non so se funziona il ritorno ma proviamo Scusi Ah, ok Ci metto un po' Bello Che succede? Aiuto 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 Qualcuno mi liberi Perché? Che è successo? Dove sei? Conoscevo le sabbie mobili Ma non i legni mobili Ma come i legni mobili? Che vuol dire? Aiuto Ma se faccio così No, è caduto il minecart Me lo riporti Guardi, solo perché lei Le regalo Devo pagare un linguaggio di oro È un linguaggio di ferro Ok, è andata È andata Vede che noi ingegneri siamo Ho raccolto una sbarra Ma vabbè Dai Aiuto Aiuto È partito È partito No, non si ferma più Non si ferma Ma la strega è seduta Ma la foto era in piedi la strega Sono crashato Sono crashato dal server Ragazzi, siamo arrivati sullo scivolo d'acqua Yeah Ah, io mi sono stroncato le ginocchia, però Andiamo Eh, piove pure Sì, ma Non si può Non può piovere sul bagnato Ecco, mi sono spesso le gambe Cazzo ridi Ragazzi, quando aggiungeremo i plug-in Tipo quello lì dell'economy Questo Ah, era crashata Questo Mini mercatino diventerà un gigantesco mercatone E ci metteremo tutte le cose in vendita Però dobbiamo aspettare che aggiornino il plug-in Per la 1.15 Ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un commento Mi piace, iscrivetevi Eh, al mio canale, attivate la campanellina passate Se non mi sbaglio è un canale YouTube Sì Passate dal canale YouTube di Turrix Che trovate nelle schede In alto Che vi dovrebbe essere comparsa all'inizio del video E da Game Time e Turrix Purtroppo Bye Ciao, ciao Ciao Ciao